Una donna di 51 anni è morta dopo essere stata accoltellata al petto nelle prime ore di sabato nel quartiere Lateia. La vittima viveva nella casa dove è avvenuto il delitto, insieme al figlio di 14 anni. Le ipotesi principali puntano all'ex compagno della donna, un uomo di 31 anni che era stato sottoposto a misure cautelari. Nel mese di aprile era stata richiesta la rimozione e distruzione del suo dispositivo di controllo, come riportato da Subraiado. Il presunto colpevole è attualmente ricercato dalla polizia. Le forze dell'ordine sono venuti a conoscenza dell'incidente intorno alle 24.30 di sabato scorso, quando un vicino ha denunciato l'aggressione. La vittima è stata trovata all'interno della sua abitazione con una ferita da arma da taglio al petto. Secondo i testimoni, prima dell'aggressione, l'ex compagno della donna sarebbe arrivato sul posto e avrebbe avuto una conversazione con lei. Chiama il medico perché mi hanno pugnalato, hanno sentito dire i testimoni. La vittima è morta durante il trasferimento in un centro di cura.